Siamo tutta in scena, siamo pronti in sartuaria per favore 1, 2, 3, 4, 5, 6, poi ti muovi, vai Motore, azioni, alza un pochino la testa Stai indietro a limite, adesso guarda in alto la giulazza Guarda sempre la mia mano Non vi va come vi guardo Non vi guardo, eh non vi guardo Giriamo Buonasera ragazzi La produzione è il reparto che alle dirette dipendenze di un produttore Si occupa dell'organizzazione generale di un film o di una serie televisiva A capo della scuola di produzione c'è l'organizzatore generale L'organizzatore è il responsabile in toto della parte operativa di un progetto cineaudiovisivo E da lui dovranno riferire tutti i reparti di un set E ogni decisione strategica e ogni spesa relativa al progetto Dovranno preventivamente da lui essere autorizzati Come immaginate è una mole di lavoro immensa nel corso di una produzione Quindi l'organizzatore si avvale di una squadra di professionisti Che si occuperà ognuno di un aspetto specifico del processo produttivo E il cui lavoro poi si riunisce in maniera armonica Al fine di garantire l'avanzamento fluido del lavoro organizzativo La squadra di produzione si occupa di tutti gli aspetti di un progetto cineaudiovisivo Nella parte burocratica ci si occupa della negoziazione e contratualizzazione degli attori Così come lo stesso vale per la troupe Per tutti i fornitori di materiali tecnici cineaudiovisivi Che siano le macchine da presa, il materiale per illuminare, i trasporti, il catering Questi sono tutti i lavori che divisi nella squadra di produzione Portano all'organizzazione di un set Oltre al lavoro burocratico di ufficio C'è tutta quanta la parte operativa dei reparti Dalla scenografia con la quale la produzione collabora nella ricerca delle location Nella decisione delle scenografie da realizzare Allo stesso discorso per i costumi Con i quali si scelgono i fornitori più convenienti per il progetto di riferimento Si decide la composizione della squadra, del reparto costumi E poi con tutti gli altri reparti, che sia il trucco, il parrucco Un altro reparto fondamentale per un set cinematografico Con il quale la produzione si interfaccia e si relaziona continuamente È il reparto fotografia Il direttore della fotografia è un collaboratore fondamentale per ogni regista Perché è colui che realizza e decide il look fotografico di un progetto Il direttore della fotografia insieme alla produzione dovrà decidere anche il materiale tecnico Che quella determinata produzione potrà permettersi per realizzare il film E dovranno scegliere assieme i fornitori che garantiranno il miglior rapporto qualità-prezzo E potranno mettere la produzione in condizione di realizzare il più bel progetto possibile Con l'aiuto di una slide voglio scorrere rapidamente quelle che sono tutte le figure professionali del reparto di produzione Alle dirette dipendenze dell'organizzatore generale c'è il direttore di produzione È una figura di grande responsabilità legalmente equiparata a quella dell'organizzatore E con l'organizzatore condivide tutto quello che è la gestione economica e organizzativa della truppa e del set Alle dipendenze del direttore di produzione ci sono gli ispettori Ed è una squadra che si occupa della gestione logistica del set Si dividono i compiti generalmente in chi si occupa prettamente della gestione della truppa sul set Chi si occupa dei trasporti, chi si occupa della logistica di contorno del set Che prevede l'uso di moltissimi canoni, di moltissimi mezzi tecnici Che richiedono un'organizzazione quasi militaresca Altro reparto fondamentale della squadra di produzione è il coordinamento di produzione Loro gestiscono l'ufficio di produzione e da loro passano tutte le pratiche più complicate e più complesse Che la produzione deve portare avanti Dai contratti degli attori ai permessi di occupazione del suolo pubblico Tutti i vari permessi che si devono richiedere ai vari enti, alle istituzioni I permessi per far lavorare i bambini, i minori Tutto quello che riguarda i viaggi e gli alloggi degli attori che magari arrivano dall'estero Da paesi anche lontanissimi O magari la troupe che deve soggiornare in una località di intrasperta In una location particolare intrasperta E generalmente sui progetti più strutturati la capo coordinatrice si avvale di almeno tre o quattro collaboratori È un reparto che si interfaccia moltissimo costantemente e quotidianamente anche con l'amministrazione In quanto deve fornire tutte quelle che sono le liste di assunzione del personale È tutto quello che è il materiale cartaceo, il lavoro cartaceo Per gli acquisti dei beni e dei servizi di cui la produzione generalmente si avvale Il location manager è quella figura professionale che si occupa di un altro degli aspetti fondamentali di un set Gli ambienti di ripresa Gli ambienti insieme agli attori costituiscono il cuore, la struttura principale di un film Il location manager deve essere una persona professionalmente molto preparata Che abbia anche un certo gusto, una certa capacità e certi doti creative Perché deve essere anche in grado di proporre allo scenograco una certa gamma, una certa rosa di ambienti Che poi andranno ad essere utilizzati per raccontare nello specifico una determinata scena o una parte della storia I segretari di produzione e gli aiuti sono la vera forza lavoro del reparto produzione Questa figura, forse in italiano, può leggermente confondere il termine segretario di produzione Perché uno pensa più a un lavoro di ufficio E rende più l'idea il termine inglese assistant unit manager Questi sono i principali collaboratori degli ispettori di produzione E fanno sì che tutta l'organizzazione del set sia resa operativa Controllando che arrivino puntualmente tutte le forniture ai vari reparti Che il catering sia organizzato e in orario E tutto funzioni secondo le regole e le normative di igiene e di sicurezza E una parte di questi aiuti di produzione viene definita runners E sono coloro che si occupano dei trasporti Dei trasporti della truppa, dei trasporti degli attori da casa al set Di tutti quelli che sono i movimenti necessari su un set per la fornitura di materiali Ogni film o ogni serie tv ha una storia a sé stante Sarà la stessa tipologia del progetto Che sia un progetto contemporaneo, che sia un progetto d'epoca A determinarne gli aspetti logistici e organizzativi Che la produzione dovrà in qualche maniera affrontare Voglio prendere ad esempio l'ultima serie dei Medici Pensate che nella città di Volterra, nel cuore della Toscana Abbiamo dovuto ricostruire la piazza della Signoria di Firenze Per far questo il regista e lo scenografo dell'ultima stagione Hanno voluto ricreare quella che è la loggia dei Lanzi Un vero e proprio cantiere dove abbiamo realizzato una loggia Che era lunga 25 metri, alta 8 e profonda 7 La logistica di un film d'epoca è particolarmente complicata Perché, come potete immaginare, ogni mattina Sia gli attori, ma anche e soprattutto le figurazioni Devono essere tutte quante sottoposte a un trucco E a una vestizione molto complicata Il fondamentale è la gestione degli animali di scena Considerate che il mezzo di ricomozione erano i cavalli E quindi un set, come era quello dei Medici Aveva sempre al seguito un piccolo protone di circa 20-22 cavalli Che seguivano costantemente la troupe in tutti gli spostamenti E che richiede un'attenzione particolare Perché il trasporto, spostare i cavalli, alloggiarli in varie città Richiede tutta quanta un'organizzazione molto importante Soprattutto dal punto di vista medico, veterinario Passando però dai racconti di una serie d'epoca A una contemporanea Voglio parlare di quella che è la serie che forse mi sta più a cuore Che è Un passo dal cielo Un passo dal cielo è la serie che viene realizzata Nelle bellissime dolomite dell'Alto Adige Che vede come protagonisti la forestale e la polizia di stato Un passo dal cielo è una serie particolarmente affascinante da realizzare Non solo per la bellezza degli ambienti in cui si va a lavorare Ma soprattutto perché in ogni puntata, in ogni episodio Ci sono sempre delle scene di azione Che sono particolarmente divertenti anche per la produzione da costruire Tra la quarta e la quinta stagione di Un passo dal cielo I produttori avevano deciso che poteva essere particolarmente interessante Raccontare il passaggio del tempo tra un anno e l'altro Tra una stagione e l'altra Dovevamo raccontare gli ambienti che siamo soliti vedere con i frati verdi Perfettamente innevati Per far questo era necessario realizzare aprire un set subito dopo una fitta nevicata Non è stata certo una cosa semplice Abbiamo voluto preparare una squadra Preparare le macchine da presa che fossero equipaggiate Per poter lavorare tranquillamente a temperature molto basse E abbiamo messo in stand-by i vari elementi della troupe Una troupe anche relativamente snella, agile Che poteva servire per quelle sequenze E ognuno stava pronto più o meno a casa propria Chi stava a Milano, chi stava a Bolzano, chi stava a Roma In tutto questo il meteorologo Che è un elemento fondamentale Soprattutto su serie complicate che si girano in montagna Teneva ad occhio tutta la situazione, l'evoluzione delle nevicate meteorologiche in Alto Adige Quando è arrivata la telefonata del meteorologo Che annunciava una fitta nevicata Che si sarebbe esaurita nel corso di una giornata E nel corso della notte Siamo saltati tutti nelle proprie macchine E abbiamo raggiunto il lago di Braies La parafitta, che è uno degli elementi più riconoscibili della serie Era talmente coperta di neve Che non si riusciva a capire cosa fosse Questo ha fatto sì che Mentre andavano avanti le riprese A turno tutta la squadra Io stesso, il regista, Daniele Diotti L'attore che stava girando con noi Così come i macchinisti ed elettricisti Ci siamo messi a spalare la neve Armati di batili e pale E abbiamo in pochissimo tempo, in un paio d'ore Fatto risplendere il legno E tirato fuori quella che è la palla pitta Di un passo dal cielo Altra giornata memorabile Di sette di un passo dal cielo È stato quando abbiamo dovuto far Atterrare un idrovolante Nel lago di Braies Era il finale della terza stagione E dovevamo raccontare Il passaggio di testimone Tra Terence Hill e Daniele Diotti Terence doveva lasciare la serie Partiva alla volta del Nepal E sceneggiatori e regista Volevano farlo partire In una maniera molto spettacolare Abbiamo dovuto coinvolgere Moltissime istituzioni Moltissimi enti Dall'Enac all'ente parco I naturalisti E ha comportato numerosi sopralluoghi Da parte di un esperto pilota Per realizzare questa sequenza Nella massima sicurezza Era fondamentale l'aspetto meteorologico Il vento doveva soffiare In una particolare direzione Non doveva essere né troppo debole Né troppo forte Perché il lago non doveva essere Totalmente liscio Per evitare strani riflessi Al pilota In fase di atterraggio In fase di decollo Il sentiero di ingresso E di uscita nel lago Era uno unico e strettissimo Quindi insomma E' stata un'avventura Un po' più realistica direi E posso dire che Che questa sequenza E' riportata Sui registri aeronautici italiani Come un evento storico In quanto è stata la prima volta Che un aereo è atterrato E decollato dall'Arby Price Ringraziando il Ministero Per gli affari esteri E la popolazione internazionale E il premio alla pellicola d'oro Per avermi invitato A partecipare A questa bellissima iniziativa Vi saluto Lasciandovi con un video Che racconta 25 anni di fiction Di successo italiana E' un video Prodotto dall'azienda Con cui io collaboro Dal 1994 E che in questo momento Difficilissimo Direi quasi drammatico In cui i set di tutto il mondo Sono fermi Mi piacerebbe Potesse essere un messaggio Di speranza E di positività Perché il nostro paese Possa riaprire presto I set E che possa tornare Nel più breve tempo possibile Ad essere quella location Meravigliosa Di tantissimi film E fiction di successo Nazionali ed internazionali Grazie a tutti I give him that word I give him that word At least it's a dream Blessing your father No tricks No cheating I ordered you to kill him Don't say that You must lead us I want his death I must go on Until I reach the land What has happened to you I don't know from you Designers these days Are forgotten That the real women Are inside these clothes It's Shanna Most merciful God Welcome this man soul Boy Diva Alexei Take me Take me to Natasha Please I love you I'm a real boy Come on Allora trasmettiamo Degli studi di via Teulada La dodicesima E ultima puntata Di studio uno Music Me riconosci? Si mamma Hai fatto una cosa bellissima Senza te non avrei fatto nulla Let me show you one last time You can find it I can't say that I can change the world But if you let me I can change the world for us Come with me Give me this It will protect you But one wonderful thing It's time to go In your eyes the melody is frozen Let me show you one last time